Aspetta L'autoretto come si chiamava? Azael Ma è straniero? No, si chiama Massimo Santamicone Non è straniero E l'audio dove è registrato? Adesso arriviamo L'audio viene fuori L'audio è buono nel mio padre Ah, qui però Aspetta Andiamo a fare da qui Aspetta Dovrebbe sentirsi No No Grazie a tutti